Oggi mi metterò alla prova con le spigole al forno. Gli ingredienti sono due spigole, olio extravergine d'oliva, pomodorini ciliegia, due spicchi d'aglio, lo scalogno, mezzo bicchiere di vino bianco, il prezzemolo e il rosmarino. Quindi sistemo nel ventre del pesce il prezzemolo, il rosmarino, mezzo spicchio d'aglio e un pezzetto di scalogno. Poi li metto in una teglia ricoperta con carta da forno insieme allo scalogno, al prezzemolo, allo spicchio d'aglio e ai pomodorini e al mezzo bicchiere di vino. E in forno per 15 minuti circa a 180 gradi. La spigola è pronta, speriamo bene!